I The Best Of pronti a far divertire persone di ogni età, a che ora salirete sul palco della piazza? Saliremo sul palco intorno alle 22.30-22.40 e con me Chiara sul palco ci saranno come sempre Francesco Montesi alle tastiere, Filippo Montesi chitarra e voce, Gianmarco Petti al basso e Marco Pacassoni alla batteria. Quale repertorio proporrete? Il repertorio è molto vasto, presenteremo tutti i più grandi pezzi degli ultimi 50 anni, sia italiani che stranieri, dai Beatles a Lady Gaga, passando per Ramazzotti, La Pausini, Claudio Baglioni, quindi tutte le più belle canzoni mi faranno compagnia. Vedremo anche video e immagini a tema. Sì, durante tutto il concerto passeranno i video di tutti i pezzi che proponiamo, in sincro con la nostra musica, quindi diciamo uno spettacolo da ascoltare ma anche da vedere. Vi aspettiamo numerosissimi, mi raccomando non mancate, sabato 31 dicembre, piazza 20 settembre Fanno 22.40, The Best Of. La Repubblica La Repubblica La Repubblica Grazie a tutti.